Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassar, io sono Laura con noi oggi di Storta, ciao! Ciao Laura! Cosa ascoltiamo? Questo è il nostro nuovo singolo Parlami Benissimo, enjoy the show! Lasciami anche qui un istante ad annegare nel mio sangue Parlami, io non ti ascolterò Perché non c'è più rimpianto Ma per un cuore triste e stanco E odiami, non me ne accorgerò E sono complici le tue parole ormai Ti sento adesso Nel letto un inferno Ti sento adesso Le ultime notizie sono Lacrime che non ho visto e parlami, io non ti ascolterò Fammi dire ciò che penso, anche solo un momento E odiami, non me ne accorgerò E sono complici le tue parole ormai Ti sento adesso E nel letto un inferno Ti sento adesso Ti sento adesso Ti sento adesso Ti sento adesso Grandi ristorta complimenti Grazie, grazie a voi Allora parliamo un po' di voi Siete nati, diciamo così, nel 2011, gennaio e marzo Già è uscito il vostro primo album, Un colpo di pistola, con dieci tracce inerite completamente composte da voi Esatto Benissimo È successo così praticamente Pubblicamo una prima canzone Su MySpace mi sembra che Sì È un'etichetta di Bari, insomma Noto la canzone E quindi ci chiese di entrare con loro in etichetta E da lì partiamo con le registrazioni E da lì tante belle cose variegate, diciamo Avete fatto un sacco di cose Partecipazioni a rassegne e concorsi Avete aperto per grandi artisti Ne ricordiamo uno Il mondo Ecnusa Nel 2014 Avete aperto per Salmo e per i Subsonica Esatto Però A sto punto Io parlerei dell'ultimo premio Che avete vinto Da pochissimo Un paio di mesi Il 21 di settembre Il Rock Targato Italia A Milano Ragazzi, avete vinto? Raccontateci Sì, a settembre abbiamo partecipato alla finale di Rock Targato Italia Eravamo 22 band provenienti da tutta Italia E niente, noi abbiamo vinto il premio Compilation Siamo arrivati tra le prime 8 band in tutta Italia Ottimo, ottimo Sì, sì E a dicembre appunto uscirà la compilation Rock Targato Italia Con questa canzone Parlami Quindi Quindi la compilation di Rock Targato Italia Insomma Adesso siete invece in studio impegnati in un nuovo progetto Esatto Raccontaci qualcosa Niente, stiamo registrando quello che sarà il nuovo LP per il 2017 Speriamo di farcela E per adesso siamo rinchiusi Ecco appunto In cella Un'ora d'aria questa Esatto, esatto Oggi ne abbiamo approfittato con questo bel sole quindi È andata bene Esatto, esatto Dove vi troviamo? C'è un sito Ci informiamo su di voi Vi teniamo d'occhio Parola al nostro esperto web Vai esperto Sul web Non c'è problema per trovarci Basta digitare D-Storta Facilissimo E poi sul nostro sito che è www.D-Storta.com Perfetto Perfetto ragazzi Grazie a voi